Bella a tutti da BigPork, eccoci qua in questo nuovo LTS, questo LTS è stato creato da RomanaccioKill e vi lascio il suo canale in descrizione Ed è armi controfaggio, pure rebel controfaggio uguale, ok O technical rebel se non mi sbaglio Oh mio dio che spettacolo, se metto la prima persona Uuuuh, sui Ardellant Paolo, no regà Oh sui vieni qua, vieni qua, vieni qua No regà quasi preso, quasi presa, arriva dalle armi Sì, arriva dalle armi, vabbè proviamo a uccidere qualcun altro Vediamo quanti killer riusciamo a fare Sì, sui vieni qua Eh regà un headshot ci serve, perché non so se ha rimosso i caschetti Sta tipo qua Uuuuh regà Sei Ardellant Paolo, vieni qua No regà meglio colpire l'oppressor Sì, ho ucciso No regà non ce l'ho io crede, che LTS è epico Poveretto ho ucciso Ardellant Paolo che Aveva l'oppressor Ma sui come ti permetti a sparare a me Ma c'è qualcuno qua sui C'è qualcuno che sta lì Come facciamo andare là Sui, se tu guidi Sui, se tu guidi Andiamo a cerca Quello sotto Non so dove Sono in due col facciolino Credo Aspettiamo Comunque kill epica Dant Paolo Madre mia Sui, se non mi sbaglio Forse Esce da lì Ma voi da dove uscite fuori Stavi DJ Selflash Qualche altro sui Non si vuole unire Sui No Selflash è morto Povero sui Che dici Stanno là Sì, 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 sì Non ti muovere da qua Che adesso escono da qua No, no sui Tutti le va Tutti le va sui No, no Dove sono? Stanno andando là Sono giù Sui, sui Buttate, buttate, buttate qua Credo che ha capito Stefi Mamma mia Stefi Me legge nel pensiero Buttate, buttate Buttate qua sui Qua, 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 qua Devi andare Dai, dai che avevi capito Riendate avanti Bravo, bravo Dai, sui Ami, capito Qua Giù Giù Mamma mia, rega Mi sente, eh Non mi sente Sto scherzando Però Lo sapevo erano qui Sui, te l'avevo detto io Morto Eh, sui, sui Ok, ok Mamma mia, mamma mia Ce l'abbiamo fatta Che bella round, rega Round e vincitore Prossimo round Ok Secondo round Comunque LTS Fantastico di Romano Acciochille La kill è più epica E' stata quella Dove ho ucciso Ant Paolo Con l'oppressor Sicuramente c'è rimasto male, eh Poverino Infatti non si fanno certe cose, sui No, rega Non mi fate il posto del blocco Qua che io donna le armi Oh, sui Arzati Veloce, sui Eh, cosa è successo? Rega Fate andare avanti Pure a me, per favore Allora Attendiamo, sui Non mi trolla, eh Per favore No, tu mi vuoi trolla Quando fa quel movimento Non ho già atteso Al flash 7 Becco Tearo, sui Levate Sì, qua Come si passa, rega Fate andare le armi Io vorrei andare le armi Pasqui Ce la fai? Provo io, sui Ok, ok Ci siamo Veloci, sui Speriamo che becca Sal flash Non a me, eh Perché tanto Siamo in due Oh no C'è un faggio qui Veloce No, no, rega Quasi morto Corri Mi hanno bucato a ruota, rega Mi hanno bucato a ruota Sal flash è morto Meno male che hanno preso a lui Ok, ce l'abbiamo fatta, rega Spettacolare Ah, pure qualcun altro Sui, non mi frega tutte le kill Aspettate Siccome c'è per quello che mi beccano Facciamo il giro da qua Ok E poi proviamo a ucciderli da qua Dove sono? Ah, non aggancia Ah, non aggancia, rega Si che aggancia Oh no, rega Non devo stare fermo Se non mi era Ok, l'ho ucciso Uh, chi è, chi è, chi è qua Come è fatta a finire là? Sui Ma che, veramente sui Veramente sui Ok, ok Abbiamo stravinto Round vincitore Prossimo round Ok Terzo round, rega Se vinciamo questo È veramente un bel LTS Anzi Un LTS perfetto Ok No, no, no Qui sui Sta combinato Di salire qua dietro Non ero dimenticato io Che bisogna prima salire qua No, già sono partiti Oh, 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 oh Rega Ok, uno è cascato Sì Credo che sia cascato Ant Paolo Ant Paolo È qui, è qui È qui, è qui Non lo so, non ti muovi Non ti muovi troppo Chi è che è salito Con me, rega Non lo so Aspettate Ce l'ha fatta Oh, è lì No, credo che sia lì Sapete Oh, è lì È lì Oh Era diventato rosso il pallino Però non ce l'abbiamo fatta, rega Tipo là Quali sono le oppressore, rega Perché si esplodono Oh, è partito, è partito Sui Dovevo andare Chi è Stefi? No, è salflash Sui Mi spieghi dove mi sta a portare Ho capito Mi hai salvato, mi hai salvato Sui, sto scherzando Va bene Di nuovo Ant Paolo Sui Ma l'ammazzo E' qua E' qui No, sui Affacciate un attimo Affacciate No, rega Non ci arriva la mira Non ci arriva Non è Oh No, no Basta che il baggancio Sono morto Basta il baggancio Sono morto Basta il baggancio Sono morto, rega Dai, un headshot Rega, quasi Un proiettile serviva Ok Quarto round Però devo dire Che sta andando bene Peccato per Ant Paolo Un proiettile serviva Però già una volta L'ho ucciso Quindi va bene così Va bene così Mi accontento Allora Andiamo Che dite Andiamo 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 Belli veloci Oh Veloce Sui Ok No, regà A me non mi è shottato Non avete capito niente Oh, piano piano Qua sui Qua caschiamo Veloce Aiuto Oh, regà Non ci voglio credere Speriamo che I miei suini Ci porteranno a casa Questo LTS Ok, ok Vedo che hanno preso l'oppressor Sono in due Eh, credo che sia vinto Sì, sì, sì Meno male Ok, ne manca solo uno Che si chiama ninja No, no, no Abbiamo vinto Mamma mia Partita vincitore Se vi è piaciuto questo LTS Lasciate un bel mi piace Passate nel mio primo canale Porkmods E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella